Mi dispiace delle parole del relatore perché noi il problema l'abbiamo inquadrato benissimo. Anche nella precedente legge di delegazione europea noi avevamo un caso da studiare, un'infrazione sul tema del turismo. Ebbene, abbiamo fatto delle richieste ufficiali al Ministero e non abbiamo mai avuto accesso a quella documentazione per studiare nel dettaglio l'infrazione. Allora di cosa stiamo parlando? Noi non abbiamo la possibilità di intervenire nel dettaglio e dobbiamo credere alle balle che raccontano il relatore o il sottosegretario, affidarci totalmente nelle mani dei leader. Questo è quello che pensate per l'Italia, perché pensate sempre che l'italiano debba affidarsi al salvatore della patria. Non crediamo che questo invece sia il metodo.